Salve a tutti, in questa parte del corso completo di base ed intermedio di Adobe Premiere Pro CC 2019 continuiamo a vedere gli effetti ma parleremo delle maschere che si possono applicare agli effetti stessi. Siamo arrivati alla categoria distorsione e qua vediamo intanto alcuni degli effetti che possiamo applicare. Allora abbiamo alterazione onda con tutti i vari settaggi. Andrò un po' veloce sugli effetti che reputo secondari perché sennò non finiamo mai. Distorsione lente Effetto sfera Ecco qua Fissa angoli Poi abbiamo, vediamo un po' particolare, specularità Con l'angolo di riflessione ecco qua, vedete Spirale Raggio spirale Spostamento turbolenza E qua possiamo scegliere anche rigonfiamento Torsione eccetera eccetera Quindi ci sono dei preset E questa è la stabilizzazione dell'alterazione Questa è molto molto importante perché? Perché se abbiamo il video mosso ci consente di stabilizzarlo un po' Ora Proprio qua all'inizio di questa clip c'era un effetto C'era un esempio di Tremolio Vediamo un po' se riesco a riprenderlo No, questa è l'altra clip Questa mi pare Appena arriva Eccolo qua Isoliamo il pezzo Così facciamo più veloce Ecco qua Allora porto questo pezzo qui E cancello il testo Così ci concentriamo su questo Allora guardate C'è un piccolo tremolio all'inizio Vedete? Questo Come lo eliminiamo? Con la stabilizzazione e alterazione Che ci consente di ammorbidire un po' tutto quanto Quindi la trasciniamo sulla clip E attendiamo l'analisi in background È un'operazione che può essere molto lenta A seconda di quanto è lungo il filmato E di quanto è potente il nostro processore Ma fortunatamente è un pezzo piccolo Quindi aspettiamo Non facciamo altre operazioni nel frattempo Perché se no lui deve riniziare da capo Facciamo play e guardiamo Come potete vedere È stato ammorbidito tantissimo Il tremolio Qual è l'unico problema? Guardate, adesso provo a disabilitare Vediamo se vi rendete conto Ecco qua In questo caso si vede poco Però si perde il laterale dell'immagine Quindi se voi applicate la stabilizzazione e alterazione Perdete una porzione ai lati dell'immagine Però, insomma, meglio perderla Che avere un video estremamente tremolante Quindi se comunque l'attenzione va rivolta Verso il soggetto centrale Non c'è nessun problema Quindi questo è lo stabilizzatore alterazione Ricordatevelo Perché è uno degli effetti più fondamentali Di Adobe Premiere Pro E non sono tanti i programmi di montaggio video Che hanno un effetto del genere automatizzato Quindi vi basta trascinarlo sulla clip E lui fa tutto quanto Cancelliamo Quindi andiamo a vedere ad esempio Disturbo e granulosità Torniamo su questa clip Disturbo HLS Ad esempio Vedete, si crea questo effetto particolare E proprio qui Vediamo adesso Le maschere degli effetti Allora Mettiamo caso che io voglio applicare Questo disturbo solamente a questo fiore Cosa posso fare? Posso usare o Il cerchio Vedete? Qui purtroppo va un po' a scatti Quindi posso portare il cerchio qui E utilizzare questi valori per restringere Oppure posso usare Il rettangolo o la penna Intanto vediamo con il cerchio Allora Ho creato quindi questa maschera E gli sto dicendo che l'effetto Va applicato solamente A quello che ho selezionato Quindi adesso Qualsiasi sia l'effetto Se vedete questi tre simboli Vuol dire che potete limitarne L'applicazione all'area selezionata Play E vedete? Solamente quest'area Avrà l'effetto Possiamo anche fare Quaggiù vedete? Ora si è creata la maschera Possiamo anche Cambiare il tracciato maschera La sfumatura della maschera Quindi se io alzo la sfumatura Guardate che succede Il cerchio si ingrandisce E man mano che vado giù Vedete? Quindi se vogliamo dare Un effetto di sfumatura Io lo consiglio Perché se no si vedono troppo i bordinetti Potete farlo Poi c'è espansione della maschera In questo caso si va a espandere un po' la maschera Anche questo in combinazione con la sfumatura Crea un effetto Naturale Un po' sfumato Vedete? Quindi non si vede quel bordonetto del cerchio Possiamo anche dire inverti Quindi noi facciamo una maschera Ma noi vogliamo Applicare l'effetto A tutto quello che non è la maschera Quindi vedete? Adesso il programma Applicherà l'effetto a tutto il resto Molto molto semplice Ora cancelliamo la maschera Vediamo la penna Perché è lo strumento forse più utile E intanto vi dico Se l'effetto che avete applicato Vi disturba Per la creazione della maschera Disabilitatelo semplicemente qua Con FX La pena ci consente di Ecco qua vedete Creare i nostri bordi In modo preciso Con un click Poi se sbagliamo Possiamo fare modifica A nulla Modifica A nulla Vedete? Torna indietro di uno E andiamo avanti Qua possiamo utilizzare Questa funzione adatta Per zoomare Quindi andiamo Non lo so A 150% E qua Con Queste barre Possiamo Spostarci Quindi se volete fare Un lavoro di precisione Ricordatevi Di zoomare Poi qua Possiamo vedete Ruotare Possiamo sempre aggiungere Dei punti In un secondo momento E possiamo Rimuovere i punti In un secondo momento Tenendo premuto Il tasto CTRL Cliccando poi Sui punti Da rimuovere Quindi voi potete Sempre comunque Aggiustare La vostra maschera Qua ci sono I simboli degli orologi Quindi con il keyframing La maschera Si può muovere In tempo reale Questo rende Adobe Premiere Pro Ancora più potente Perché ad esempio Se volete censurare Un volto in movimento Dovrete muovere Questa maschera Nel tempo Questa cosa La vedremo velocemente In un tutorial a parte Comunque ho già mostrato Un tutorial Su questo Su come ad esempio Sfocare Una targa Un volto In movimento Quindi questo è come Creare delle maschere Sugli effetti Ovviamente poi c'è anche Il rettangolo Qua intanto Rimuovo la maschera Quindi mi muovo Sulla maschera Tasto destro Cancella Per toglierla Rettangolo Qua abbiamo Il rettangolo Per la maschera Semplicemente Poi quando avete finito Riabilitate l'effetto L'effetto viene applicato Solo alla maschera Cancello Disturbo HLS E rimetto Adatta Per riavere L'immagine A proporzione Disturbo Alfa Quantità Polvere Grana Questa è una cosa Che spesso uso Per dare un po' Di disturbo Leggero Soglia Poi qua General L'abbiamo visto Qua c'è la categoria Obsolete Ci sono alcune cose Che probabilmente Non vengono più Utilizzate Però ci sono ancora Intanto vi ricordo Di tenere aggiornata La versione di Adobe Per il Pro CC Perché la potenza Dell'abbonamento Di Adobe In Creative Cloud È che In Creative Cloud È che possiamo avere I programmi Adobe Continuamente aggiornati E più o meno Una volta al mese Io ricevo Un aggiornamento Quindi Se voi non vedete Alcuni effetti Probabilmente Perché avete Una versione Non aggiornata Di Adobe Premiere Pro CC Qui c'è ad esempio Ombra luce Quantità automatica Ecco qua Sì Adesso si vede Se lo cancello E poi abbiamo Gli effetti Di Prospettiva Che sono Più utili Diciamo Su un testo Magari Vedete Si può dare Un certo 3D Qui c'è 3D Di base Alfa rilievo Li abbiamo comunque Visti Già In un altro video Mi sono dedicato Appunto A questi effetti Quindi qua Vado velocissimo Qua c'è l'ombra esterna L'ombra radiale Che si applica Più facilmente Ad un testo Infatti lo vado A creare velocemente Ora Titolo Lo portiamo qua Ombra esterna Ed ecco qua Vedete Si vede già Una certa ombra Però è troppo piccola Quindi aumentiamo La distanza Ecco qua Qua c'è la morbidezza La direzione E qua c'è anche Il colore dell'ombra Oppure qua possiamo Mostrare solo l'ombra Quindi va via il testo E si vede solo l'ombra Che sta dietro E poi c'è l'ombra Radiale Eccola qui Distanza proiezione Morbidezza Sorgente luminosa E anche qui Colore Rendering Regolare Bordo vetro Guardate Fa questo effetto qui E ci siamo Allora nel prossimo video Vedremo le regolazioni E quindi continueremo A parlare di effetti Ma vedremo anche Il livello di regolazione Che possiamo creare Su Adobe Premiere Pro Un saluto a tutti Un saluto a tutti